Vi faccio terzo punto del webinar e poi ho quasi finito ragazzi, poi vi lascio andare. Alcuni esempi di cosa può essere tracciato, quindi andiamo un po' più nella parte di cosa effettivamente fa Google Tag Manager. Quindi abbiamo capito cos'è, abbiamo capito come si installa, abbiamo visto la best practice di come gestirlo a livello di account. Adesso andiamo a vedere esattamente cosa è possibile fare. Beh, quello che possiamo fare è tracciare qualsiasi click da parte degli utenti. Il click a livello tecnico è un qualcosa che viene intercettato dal browser e quindi potenzialmente è possibile andare a intercettarlo con Google Tag Manager. È possibile intercettare gli scrolling, quindi il fatto che l'utente scrolle alla pagina e fino a che punto è arrivato, quanto tempo ci è rimasto. Quindi se uno scrolling, se il tuo contenuto è a circa metà, capire se l'utente è rimasto in quel contenuto per 30 secondi, un minuto e quindi capire se effettivamente quello che sta facendo è interessante. Perché un utente che va nella pagina, ci entra, ci resta un po' la, diciamo, la scrolla, rimane nel contenuto per un totto di secondi e poi va via. Perché effettivamente è l'informazione che cercava la presa. È diverso rispetto a un utente che entra, scrolla due secondi e va via. Con Google Tag Manager è possibile intercettare questi due segmenti di utenti e dire, ok, l'eventuale pubblicità di remarketing, quindi la pubblicità di sponsorizzazione, la faccio solo negli utenti che erano realmente interessati. Non la faccio su tutti gli utenti. E quindi questa cosa è una cosa che ci viene in aiuto. Quindi tutto quello che sto dicendo di tracciamenti, voi vedete in visione di, ok, cavolo, posso fare un segmento di utenti, un gruppo di utenti dove posso andare a dire, ok, tutti gli utenti che hanno fatto quest'azione e quest'azione e quest'azione, li mettiamo su un gruppo di utenti e vado a fare la pubblicità mirata su quel gruppo. Quindi posso distinguere anche, diciamo, advertising diverse. Poi possiamo fare la tracciabilità di video, quindi se avete un video su YouTube, soprattutto, adesso è anche in attivo all'interno di Google Tag Manager, è possibile capire se gli utenti lo stanno visionando, se hanno fatto play, se l'hanno fermato, se sono arrivati al 50-75%, decidete voi i parametri. Poi, come dicevo prima, visualizzazione dei contenuti, se l'utente ha visto il dialogo che appare della newsletter, quindi il pop-up che viene fuori della newsletter, se è rimasto lì per 30 secondi, vuol dire che probabilmente stava leggendo la roba che c'è scritta sopra, se lo chiude immediatamente significa che non è un utente pertinente per fare eventualmente remarketing sul fatto di iscriverti alla mia bellissima newsletter. Compilazione di form, quindi le cose più classiche, il fatto che l'utente si è iscritto, abbia scaricato un catalogo, piuttosto che abbia acquistato un prodotto e così via. Questo è uno strumento di heatmap, quanti di voi non... c'è qualcuno che non sa cos'è un heatmap? Se no l'ho dopo scontato. Ok, sapete tutti cosa sono gli heatmap? Perfetto, praticamente sono quegli alunni che vedete, praticamente il click è la mappa di calore dei click, ok? Quindi anche qua è possibile andare a identificare... questo è ovviamente uno strumento che è installato con Google Tag Manager. Google Tag Manager non registra niente, cioè non ha un database che registra le cose, ma ti permette di tracciare le cose che le fai, le deleghi a Analytics, a strumenti come questo che è Hotjar, piuttosto che altri strumenti che fanno esattamente quella cosa. E poi puoi fisicamente vedere cosa stanno facendo gli utenti, cioè strumenti come Hotjar, piuttosto che Yandex Metric, eccetera, hanno degli strumenti che fanno proprio recording dei video. Ed è come se fisicamente tu stessi dietro al tizio, quindi dietro al PC, e guardi fisicamente cosa diavolo sta facendo. Quindi se io adesso qua lo attivo, questa è una registrazione di un utente che sta facendo qualcosa all'interno del mio sito, quindi vedo fisicamente come si sposta, cosa sta cliccando, in che pagina sta navigando. E provate a pensare alla potenzialità di questa cosa se io questi video magari li accendo solo quando ci sono dei problemi. Quindi la registrazione non la faccio sempre ovunque, ma lo faccio solo se magari l'utente arriva al checkout, piuttosto che arriva in una determinata pagina, oppure ha fatto una determinata azione. E quindi in questo modo scremo già tutti i video. E posso andare a vedere fisicamente che problemi ha l'utente. Se va a cliccare in un punto dove non ha senso per voi che l'utente clicchi, invece in realtà magari andate a scoprire che quell'immagine che avete inserito, in realtà tanti utenti vanno a cliccare e se forse la rendete cliccabile e fate fare qualche azione, magari avete un po' più di interazione con l'utente. Quindi questa è un'altra piccola cosa. Quindi anche questo è un strumento potentissimo. E questo è Hotjar, quindi scusami, questo è Yandex Metrica, molto simile al video di prima, quindi qua ci sono tutta una serie di video che mi stanno dicendo il tempo della durata. Qua addirittura mi dà, differenza di Hotjar, mi dice se l'attività, cioè mi dà un valore dell'attività, quindi mi segnala con dei colori, con dei pallini, se è interessante o meno. Mi dice quante pagine ha visto, da dove proviene quella visita e così via. Quindi altri strumenti di analisi. Questo è il classico, diciamo, rapporto di Analytics, che mi fa dire, ok, quanti utenti sono arrivati nel carrello, quanti di questi hanno fatto la registrazione, quanti sono arrivati nella cassa, quanti di questi sono usciti, in che pagina sono usciti e così via. Quindi tutti questi strumenti sono inseriti, installati con Google Tag Manager, altrimenti saresti comunque delegato allo sviluppatore. Questo è sempre, è ancora Hotjar su un altro, diciamo, sistema di tracciamento, quindi le viste al prodotto, prodotto inteso generale, qualsiasi prodotto, quanti di questi poi arrivano nel carrello, quanti di questi fanno il check out, quanti poi di questi arrivano a fare il pagamento. Quindi ho una percentuale di conversione dell'1,9%. Qual è qua il collo di bottiglia? Beh, probabilmente uno direbbe, se vado a ottimizzare il collo di bottiglia tra prodotto e carrello, sicuramente potenzialmente potrebbe alzarsi di più questo. Però comunque abbiamo un 50% da check out e pagamento. Cioè se io vado a capire qual è il problema che ci sta qua, ed è uno dei webinar che ho fatto l'altra volta, del sgorgare i tubi, che parlavo esattamente di questa problematica e di quali potevano essere le azioni da fare, i problemi da risolvere. Un altro strumento interessante è il Net Promoter Score. Vi lascio il link, oppure se andate su Tag Manager Italia comunque trovate cos'è. Praticamente è un indice che vi andate proprio a chiedere attraverso un sondaggio agli utenti, ma sei contento dell'esperienza che hai fatto? Quindi se hai appena acquistato consiglieresti questa cosa? Quindi gli dai un punteggio da 1 a 10 e in base al punteggio cambi la domanda e praticamente alla fine quello che succede è che hai delle valutazioni di utenti che sono detrattori, quindi che non andrebbero a parlare bene di te, utenti che sono neutrali, quindi questa fascia che vedi azzurra è neutrale, quindi gente che non ne parla bene e non ne parla male, e quelli verdi invece sono quelli che consigliano il tuo sito o il tuo prodotto, il tuo servizio agli altri. E questo lo fai in base alle domande che fai e ai punteggi che ti trovi. Anche qua è molto interessante perché proprio dalle risposte che dai puoi trovare degli spunti per fare una comunicazione di pubblicità, di advertising diversa rispetto a come pensavi. E poi puoi installare tutta un'altra serie di strumenti come al di là di Facebook, AdWords, Hotzer, puoi installare Bing, puoi andare a installare tutti i strumenti di email marketing, GetResponse, MailChimp, ActiveCampaign, strumenti di CRM, Salesforce piuttosto che SugarCRM e così via. Quindi puoi installare veramente di tutto perché la potenzialità di Google Tag Manager è che non hai limiti nel cosa andare a installare. La cosa interessante è che puoi fare anche comunicare tra di loro alcuni dati, quindi potrei estrapolarmi un dato di Hotzer, installarlo su Google Analytics, farei dei filtri su Google Analytics per andare a vedermi i video di quell'utente. Esempio banale, utilizzo il filtro di Analytics, vuol dire mostrami tutti gli utenti che hanno fatto quest'azione ma non hanno fatto quest'altra, tirami fuori l'ID, quell'ID lì lo utilizzo su Hotzer, su Hotzer, l'ho chiuso, aspetta che lo riapro, c'è proprio un ID che è qui in alto a destra, identifica anche lui l'utente, quindi ogni volta che l'utente entra nel sito c'è questo user ID qua, se riesco a prendermelo con Google Tag Manager, lo sparo da un altro strumento che può essere il tuo CRM, Analytics, eccetera, e puoi andare proprio a vedere esattamente quell'utente cosa ha fatto e perché, diciamo, ha fatto quella azione.